Cittadini positivi in attesa del primo tampone da settimane e di quello di verifica dopo i famosi dieci giorni. File interminabili presso l'usca, carenza di personale per gestire la mole di lavoro che in questo periodo sta mandando in tilt. Tutta la catena lavorativa che si occupa di monitorare i positivi in città, macchinari guasti, nervi a pezzi, ma non solo per i sanitari. La situazione è fuori controllo, non si riesce più a garantire il servizio di assistenza ai cittadini. La gente è esausta di questa situazione e fa appello al sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, è il momento di intervenire con urgenza, scrive un cittadino su Facebook. Il sindaco si renda attivo e vada di persona a verificare come stanno le cose. I risultati di tamponi fatti tre giorni fa ancora non sono arrivati, tamponi programmati, rinviati perché terminati, ma l'autorità sanitaria di Agropoli sta a guardare le stelle, sottolinea un'altra cittadina sui social. Paghiamo le tasse, le multe o i tamponi che ci costringono a fare privatamente perché siamo sfiniti. Io dal 23 dicembre che sono in queste condizioni ed ora inizio ad essere veramente stanca. Qui bisogna passarci e viverlo il virus per capire come si sta psicologicamente. Poi parlare con Lusca è peggio di fare un terno all'otto. Le esperienze negative che i cittadini stanno vivendo in queste ultime settimane sono numerosissime e ognuna sembra assomigliarsi per vari aspetti. Cittadini positivi all'antigenico da settimane che non sono stati ancora chiamati a Lusca per effettuare il tampone molecolare, nonostante la comunicazione del medico curante alle autorità preposte o persone che attendono esiti di verifica che ci mettono giorni per essere inviati. E' questa la situazione che si presenta in città. Sapevo perfettamente la procedura ma la signorina, detta ai tamponi, ieri non aveva voglia di lavorare di conseguenza. Ogni mia richiesta era un no accompagnato da una scusa fino a che mi sono rotta e perso tutta la mia educazione trattandola come meritava. Chi mi conosce sa quanto sono educata disponibile e paziente ma a tutto c'è un limite. La signorina forse non sa che sta lì a servizio del cittadino, forse non sa che il suo stipendio viene pagato con i soldi dei cittadini. Il problema di fondo era che la signorina doveva fare la vestizione per fare il tampone e non ne aveva voglia perché era impegnata a fare inciucio perché sanno benissimo che non c'è nessuno che le controlla. Sono andata via e ho fatto un altro tampone a pagamento. Adesso mi auguro per lei che il medico non ha davvero inviato la richiesta perché se così non fosse sono problemi suoi pagherà le conseguenze della sua non voglia di fare il dovere e lo sfogo di un'altra cittadina di agropoli. Insomma intere famiglie si sentono abbandonate a se stesse. Certo per chi può permetterselo risolve la questione in un laboratorio privato pagando il test e ottenendo il risultato in giornata ma chi di base combatte già con il quotidiano e le sue tante difficoltà viene doppiamente mortificato. Chiediamo a voce alta che il sindaco Adamo Coppola si interessi in prima persona di questa situazione e faccia ordine per garantire quell'assistenza troppe volte negata o addirittura dimenticata. È l'appello al primo cittadino di Agropoli da parte delle famiglie che in questo momento stanno vivendo una situazione di estremo disagio e difficoltà.